Ma purtroppo in passato è già successo che all'interno del PD alcuni deputati votassero in modo diverso, anche alcuni senatori lo abbiamo visto nelle riforme costituzionali. Io mi auguro sempre che ci sia una compattezza del partito e per questo continueremo a lavorare anche nelle prossime ore. L'importante però è dare delle risposte agli italiani. Abbiamo cercato di ascoltarci reciprocamente fino all'ultimo momento utile, poi arriva il tempo della decisione, altrimenti si rinvia continuamente e non si fa mai niente in questo paese.